C'è anche un irpino, l'oncologo del Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, Geppino Genua, fra i sette medici campani ad essere stati premiati questa mattina presso la sala del Consiglio regionale della Campania col Palliative Care Award e per l'impegno nella diffusione delle cure palliative e della medicina del dolore è stata insignita anche la Presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio. Il premio è promosso dall'Associazione House Hospital in collaborazione con l'Asservatorio regionale cure palliative e medicina del dolore, la Fondazione Medicina Palliativa, la Scuola regionale Accademia della Conoscenza, l'Osservatorio regionale cure domiciliari e la Fondazione Addiastra. Un riconoscimento che viene assegnato sulla scorta delle segnalazioni di pazienti oncologici e dei loro familiari a medici che si dedicano ai pazienti nell'ambito delle cure palliative con un approccio umano, con la vicinanza, la comunicazione, l'attenzione e l'accoglienza. Oltre al dottor Genoma dell'Asle di Avellino hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento ad Ilberto Favilli dell'Asle di Terni, Antonio Maddalena dell'Asle Napoli 1 Centro, Antonio Maione dell'Asle Napoli 3 Sud, Armando De Martino dell'Asle di Salerno, Carmine Lauriello dell'Asle di Caserta e Fabio Borrometi dell'azienda ospedaliera Santo Bono Pausillipon. Il dottor Geppino Genoa di Gesualdo è dirigente medico responsabile dell'unità operativa di oncologia presso l'ospedale di Ariane Urpino, reparto che ha già ricevuto numerose attestazioni di merito e che costituisce un fiore all'occhiello per la sanità urpina e campana. Diversi fattori valutati dall'utenza, come indicato dal Presidente dell'Osservatorio regionale Cure Palliative, Sergio Canzanella, senza dubbio è stata valutata la disponibilità di interagire con il paziente e a fornire risposte esaustive. L'ascolto attento ed accogliente per conoscere la persona, le sue convinzioni, i suoi progetti, i suoi bisogni e le sue paure, per permettergli di vivere dignitosamente la malattia in ogni attimo della sua vita.